Musica 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 Grazie a tutti. 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 , , , , , , ,... , , ,..., , ,..., ,... ,..., ,..., ,..., Grazie per l'opportunità. 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 Grazie. Grazie per l'opportunità. Grazie. 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 power. Grazie. 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 e a Università di Balonebe, ora sono i valori, lì siamo. Dopo i studenti come si diceva, valori, 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 valori. Lì è una scuola, è una scuola, è una scuola, è una scuola, è una scuola. Quindi, non ci sono ancora politica, non ci sono ancora politica, non ci sono ancora politica. E quindi, è una scuola. E poi, dalle vi ringrazio alla nostra consiglia, non ci sono ancora politica, ma le preoccupazioni non ci sono i sentirsi, ma non ci sono ancora politici. non ci sono importanti di sperare, che le pensi sono i bambini per pietr yogh, ma non ci sono i bambini. visto che noi ne sono i bambini, se non ci sono i bambini, per MOT è direto a CESI superiore Fondo di desenvolvimento capital Fondo di desenvolvimento do capital humano non è obiettivo, non è vicino Entità di IDA nebbe, atto, azuda azuda recurso umano nebbe forti nebbe forti e che attacca questa è bella qui e like ma la bella qui e like la scienza Il governo di responsabilità è la la soluzione è la la soluzione è la la università di Foti il governo senza responsabilità dopo che mi presenta il 16 di novembre o abril ora mi presenta la consapevole la soluzione è la soluzione ma la soluzione è la soluzione ma la soluzione è la maio politica maio interesse politico se è il governo no èТак c'è un governo quando non c'è un governo le Quartere la Beit Siamo arrivati a tutti i giorni e i giorni. che mi sono chiede a un libro, ma non si può comprare. C'è cosa? C'è un'altra cosa? C'è un'altra cosa? C'è un'altra cosa? C'è un'altra cosa? la holla, ma è che compara con la università, quindi è che holla dunque, la realtà è che holla. Tiene che trasferire orzamenti a propini semestrini, finturare il processo di apprendimento. E se fulano, fulano che l'abbiamo, o fatti a CARES, o fatti anche il recibo, a propini semestrini, finturare il processo di apprendimento. Quindi è che la CARES, ma è il Fondo di Desenvolvimento del Capitale e l'orzamenti lega. Quindi è che pregiudica il ministro. È che il fattore dell'agricoltura. Quindi è che il fattore di un'agricoltura, quindi è che il primo, il lavoratore, il fine, il vivito, il management. Quindi è il Fondo di Desenvolvimento del Capitale, e che il Vivi è il Fondo di Milano, in cui è il Fondo di Capitale, è che io ho un'agricoltura, e che io ho un'agricoltura, quando venire, l'affronthità è dedicato a dirvare il Fondo, ma è il Fondo di Milano. La Fondo di Milano è che si savolta per l'aricoltura, ma è che si deve fare il direccolo. Cosa c'è quando si è il vostro? Pagamenti sono via? Pagamenti sono da contratto, sono già di 23 marzo del 2022. Pagamenti sono da casa, sono da casa, ci sono da casa, ci sono da casa. Pagamento, la i ha emira la bella è tanto. Ok, pagamento vai a quitarne a escola se continua, se lavola? Agora parado. Parado. Ma è beh, i ha claudura tutto, ha te tengato quello che ha pagamento. Borsi d'altro, ho tutto, ti ho fatto un po' di fulgura. Ma è beh... Agora parado, parado non è? Parado, lui si è... De genero sai mai, tu agorra ne... La... Ok. Passiamoci in fondo per prendere le fondamentali. Siamo arrivati un domingo quando faccio, con i muri della città, per fare i luoghi dell'Officio FDSA, vi consiglio che che fosse un costardo per questo. Mamà in fondo che faccio. Ci sono i miei miei vecchi, Il nostro corso il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Alla prossima Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Alla prossima 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 e il suo progetto il suo progetto. E se il programma beneficia il suo progetto, se ci sono dei figli e dei figli, e ci sono dei figli. Non ci sono ancora più, ma non ci sono ancora più, ma non ci sono ancora più. Ora, ci sono i figli, e ci sono i figli. Abbiamo sentito una cosa, una cosa, una cosa, un governo democratico. Quindi, quando si è in Italia, ci sono stati di essere un'unico molto. Quindi, la loro rivolgo, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Ma bene, ci sono stati di soluzione. Quindi, se ci sono stati di continuo, ci sono stati di continuo di politica e governare. E non ci sono stati di continuo di politica, ma non è vero, ci sono stati di continuo di continuo. e il fatto di fare un'attività, un'attività, quindi quando gli uccideri di un'attività di un'attività, magari il governo ha fatto una intenzione di un'attività, ma la intenzione di un'attività è di comunicare alla colloca, per questo tutto. Significa che prima di parlare, se non ci si tratta di un'attività di un'attività di un'attività? Infelizmente, non ci sono scopriati, ma non si tratta di un'attività, non ci sono scopriati, ma non ci sono anche un'attività di un'attività, e abbiamo detto che, come siamo studiati, la fura che siamo responsabili, abbiamo fatto tutto ciò, ma è che ci sono limitazioni. Ok, grazie. Grazie, grazie. 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 Grazie.